Ognuno è sempre metà. Perché dici che ognuno è sempre metà? Commento. Perché ognuno è tale finché non si completa nel tutto. Allora è di nulla mancante e si realizza quella fusione che il mistico e filosofo indiano Pataniali chiama Samadhi, stato di coscienza che si raggiunge quando la conoscenza, il conoscitore e il conosciuto sono uno.